Noi abbiamo l'idea che la bellezza sia un lusso, in realtà provate a vivere in una periferia sgardrupata o di Roma o di un altro posto, la bellezza è qualcosa di vitale che ci dà la possibilità di sentirci nel mondo a nostro agio e poi ha questa caratteristica, come accennavo prima, la bellezza uno la prova, non è che la può provare sempre, ma ci sono dei momenti privilegiati che la pelle docca, c'è l'idea che qualcosa di più grande di noi ci sovrasta e quindi ci porta verso una crescita su noi stessi, se noi accettiamo il brutto che c'è attorno è veramente una capitolazione e poi vedo, insegnando in America, qualcuno ha detto prima che dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani, ma per un motivo, perché anche i miei studenti migliori, americani, asiatici, poi, sono gente che arriva molto più ignoranti di noi perché c'hanno delle scuole peggiori, in cui praticamente c'è tanto sport, poche materie fondamentali, tante materie, diciamo, facoltative, un po' balorde, secondo me, l'Ichebana, il tango, eccetera, però arrivano più vissuti, piano piano, perché pagano tanti soldi, crescono, però restano sempre quei paraochi, quello che noi abbiamo, il rinascimento forse la nostra storia ce l'ha portata, e questa curiosità, la capacità di unire l'intelligenza alla fantasia, e quindi l'elemento creativo, d'altra parte nella moda, forse in altri campi, nel design, è questo che conta. Il problema è che c'è una parabola evangelica che mi sembra adatta alla nostra situazione, dice Gesù in queste cose, che il seminatore semina, ci sono dei semi che cadono nella roccia e non crescono, ci sono dei semi che cadono nella terra buona, poi vengono gli uccelli del cielo, se li beccano e si portano via, ma ci sono dei semi che cadono nella terra buona e poi sono soffocati dai rovi, ecco noi dovremmo disboscare, questo è il punto, togliere questi rovi che sono anche politici.